Anna Comnena, la principessa bizantina che scrisse la storia. Anna Comnena è una delle figure più importanti e affascinanti della storia bizantina. Nata a Costantinopoli nel 1083, era figlia dell'imperatore Alessio I Comneno e di Irene Ducaena. Anna ricevette un'educazione eccellente, studiando filosofia, medicina, storia e letteratura. Già in giovane età, Anna si interessò alla storia del suo paese e iniziò a scrivere una cronaca degli eventi del regno di suo padre. Questa opera, intitolata Alessiade, è un'opera monumentale che racconta la vita e le imprese di Alessio I Comneno. L'Alessiade è un'opera di grande valore storico e letterario. Anna Comnena è una scrittrice talentuosa e capace, che dimostra una grande conoscenza degli eventi storici e una profonda comprensione della psicologia umana. L'opera è inoltre ricca di dettagli e di aneddoti, che la rendono una lettura coinvolgente e appassionante. Oltre a essere una scrittrice, Anna Comnena era anche una donna di grande carattere e determinazione. Si dedicò attivamente alla politica e alla vita pubblica, e fu una figura importante nella corte bizantina. Anna Comnena morì nel 1153, lasciando un'eredità importante per il mondo bizantino e per la storia in generale. L'Alessiade è un'opera che continua ad essere studiata e ammirata, e Anna Comnena è considerata una delle figure più rappresentative del rinascimento bizantino. Biografia Anna Comnena nacque a Costantinopoli nel 1083, da Alessio I Comneno, imperatore bizantino, e Irene Ducaena. Era la terza figlia della coppia, e fu educata da un gruppo di precettori di alto livello, che le impartirono una formazione completa in filosofia, medicina, storia e letteratura. Anna mostrò fin da giovanissima una grande passione per la storia, e iniziò a scrivere una cronaca degli eventi del regno di suo padre. Questa opera, intitolata Alessiade, fu completata nel 1148, dopo la morte di Alessio I Comneno. L'Alessiade è un'opera monumentale che racconta la vita e le imprese di Alessio I Comneno. È un'opera di grande valore storico, Piché fornisce una preziosa testimonianza degli eventi del XII secolo. È inoltre un'opera di grande valore letterario, Piché scritta in un greco elegante e raffinato. Oltre a essere una scrittrice, Anna Comnena era anche una donna di grande carattere e determinazione. Si dedicò attivamente alla politica e alla vita pubblica, e fu una figura importante nella corte bizantina. Nel 1097, Anna sposò Niceforo Briennios, un generale bizantino. La coppia ebbe tre figli, ma il matrimonio fu breve e infelice. Nel 1137, Anna si risposò con Giovanni II Comneno, fratello minore di suo marito. Anna Comnena morì a Costantinopoli nel 1153, all'età di 69 anni. L'Alessiade. L'Alessiade è un'opera in 15 libri che racconta la vita e le imprese di Alessio I Comneno. L'opera inizia con la descrizione della nascita di Alessio e prosegue con la narrazione delle sue imprese militari e politiche. L'Alessiade è un'opera ricca di dettagli e di aneddoti, che la rendono una lettura coinvolgente e appassionante. Anna Comnena è una scrittrice talentuosa e capace, che dimostra una grande conoscenza degli eventi storici e una profonda comprensione della psicologia umana. L'Alessiade è un'opera di grande valore storico, Piché fornisce una preziosa testimonianza degli eventi del XII secolo. È inoltre un'opera di grande valore letterario, Piché scritta in un greco elegante e raffinato. L'eredità di Anna Comnena. Anna Comnena è una figura importante per la storia bizantina e per la storia in generale. L'Alessiade è un'opera che continua ad essere studiata e ammirata, e Anna Comnena è considerata una delle figure più rappresentative del rinascimento bizantino. Anna Comnena è una donna che ha sfidato le convenzioni del suo tempo. È stata una donna di grande talento e di grande determinazione, che ha lasciato un'eredità importante per il mondo.